Cosa c'è la persona? Ma come è chiuso? Non te Martina, non gli hai fatto subito di gioco Questo! E' una periode rosso di Aurora! Cosa le fumo? Aspetta! Vieni a vedere cucina Martina! Ce ne sono? Eh sì, altre! Apriamo anche i miei testi! Apriamo anche i miei testi! Mi si è mangiato tutto il latte! Chiara! Io questo e questo! Mamma, me lo hai trovato! Auri! Me lo apri! Nella calza Kinder! Laura che sta controllando! Vediamo cosa c'è dentro la calza Kinder! Bueno! Kinder è bueno! Bueno! Ooooooooooo! Eeeh! 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 Oooo! Kinder Maxi Mamma, qual'è questa? Altri di Kinder Che ti stacco Ah, la calzarribo Martina sta svuotando C'è altro, Chiara? Mamma Queste Questa roba che c'è Adesso lo rimetto dentro Queste Che buono, le mie preferite mi ha portato Questo Lui di Kinder Questo Mamma Si vede Si vede È un video Ma se sono caramelle frizzanti Sì, caramelle frizzanti In quello alibo Avri, lo apri con me, regalino Guardi Queste sono cingoni Questo Toglilo fuori Che carina il ginocchio Amore Toglilo fuori Non ci riesce Toglilo E' un piccolino E' un piccolino Sto' guarda un pugno Dai Toglilo Prendilo su Brava amore Sto' guarda un po' 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 come si deve sentire lo stesso, mettiamo dei truccuni, con il fiocco stai cliccando, adesso questo, mi ci riesca da qui in via, lo sa che non riuscirò mai a metterle cosa? guarda che fai ma che fai ma che fai guarda che fai guarda che fai guarda 37 e ti staranno? ti staranno? c'è la carta dentro? oh no assolutamente sei lì là infila bene? sì, mi stanno si mi stanno mamma che si spacca ok apriamo la calza di Barbie mmmm quell'anzicherato niente carbone quest'anno eh mamma mamma sono tatuaggi martina tieni fiorelli guarda aperta non so non so l'anno nascosto ce l'avevo portato di masca è vero quest'anno di Barbie ce l'avevo mangiato tutti in un giorno sì quella è soffice perché vorrei mangiarlo io papà quella è soffice e soffice troppo mangiare per colazione questo secondo me ci piacciono perché queste c'erano le feste i masciumello non soffice che sussusta ma non giocare con i ciocci ma non giocare con i ciocci ma non giocare con i ciocci e non giocare con i ciocci questi questi nulla nulla va bene fuori allora il carbone oh oh spunta il carbone martina te l'hai ricevuto il carbone sì tu quanti? e uno ancora oh oh che bene che buone dai dai Auri per favore gioca con i ciocci prego sì anche questi anche io wow non no bucci ma 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 vado a vedere il carbone è buono mi papà ci ha portato un pacco di carbone sono così quindi sono tutti i contenuti per fare i rossetti là c'è l'aroma a fragola l'aroma a ciliegia i sapori ci sono gli stampini per fare i rossetti che sono lì vedi questi sono gli stampini dove verranno messi i rossetti all'interno si fa qua mattina tu hai perso tutte le calze dopo adesso salutiamo io no dopo dedicheremo un altro video interamente per la preparazione dei rossetti va bene è la preparazione di biaudone ciao 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 mamma